1-1-1-3 ricevuto con el canno 0-1-7 pari a 3-0-0-5 in uso più vicino abbiamo una pista 2-5 per le partenze, pista 16 sinistra, destra terra e gli arrivi continuo lungo coppa, autorizzato a Focene limite, che riporterà? 1-0-1-7 copriamo per le piste, riporterà Focene come limite del senso 1-1-3 1-1-1-3, attra spavere a bordo? 1-0-1-3 non riusciuta, per accortesemente squacca 7-0-0-1 0-1-3, attra spavere a bordo 1-3-2, attra spavere a bordo 1-3-3, attra spavere a bordo 1-3-3 1-3-3 sattuku, attra spavere a bordo 1 bis 0.2-3 che ha fatto perdereべce sonrate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.